Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archevi Parla, siamo qui per fare oggi una custom in live. È una cosa interessante perché vogliamo fare 5, quindi di teoricamente Black Ops 1 o Classified di Black Ops 4, ma siamo su Black Ops 3. Questo perché proprio recentemente, circa un mesetto fa, un ragazzo come custom ha fatto una specie di porting di 5 qua su Black Ops 3. Ovviamente ci saranno dei problemi, l'utente stesso ha detto che è una specie di remastered, ma alla fine tantissime cose non funzionano correttamente e possono esserci dei problemi. A me ci interessa soltanto fino a un certo punto perché ero curioso di vedere come appunto mappe vecchie come quelle di Black Ops 1 potessero funzionare qua su Black Ops 3 e avevo comunque voglia di qualche custom. Per cui iniziamo, spero come sempre di non incontrare problemi, se no come sempre questa registrazione verrà completamente carcelata e distrutta, che è sempre una possibilità, in realtà capita di rado, da essere sincero. Tutte le volte che lo dico poi il video esce relativamente bene, per cui aspettiamo e vediamo come tutto quanto funziona per bene. Poi già vedo che gli FPS sono sbagliati, dovrò cambiarli, adesso comunque vediamo come inizia la mappa e quali subito problemi potremmo incontrare. Ci devo già un rumore invece che mi convince, come vedo una pistola, probabilmente una 1911. Oh signore! Allora, punto 1, quali FPS sono sbagliati? Per cui pompiamoli un attimo, 121 perché non c'ho voglia adesso di fare 120 tondo tondo. Allora, aiuto, che strano. Ci sono tutte le finestre praticamente già spaccate perché non è come la 5 originale. No, non mi dai punti! Bastardo! Come la 5 originale che ci sono ovviamente le finestre possibili. Non capisco se la grafica così... Castro, bella per lui! Se sulla grafica così sono le mie impostazioni, che c'ho le impostazioni medie, credo. Mi sembra strano che sia così bruttino, cioè... Non so se ha proprio fatto un porting dritto per dritto da Black Ops 1, per cui arrivare poi con la grafica di Black Ops 3, insomma... Non è che faccia un bel figurone, però tutto quanto è proprio pixelato, che... Madonna, questo è un pochino troppo, cioè... Con le cose di Black Ops 1 ricordo che sono relativamente pixelate. E che questa 1911 non mi convince. Cioè ho detto, come l'utente stesso ha detto che l'ha creato, ovviamente trovate il link alla custom in descrizione. È un porting molto molto grezzo, che però può essere interessante. E diciamo che, essendo che è soltanto l'inizio, ho visto cose dannatamente peggiori. Qualcuno se lo ricorderà che in streaming abbiamo fatto una volta una specie di custom che doveva essere Origins, molto prima dell'uscita di Zombie Chronicles. Per cui qualche utente avrà pensato quello che poi ha pensato Treyarch. Ma riportiamo Origins di Black Ops 2 su Black Ops 3. Il che non è una pessima idea. La questione è che questa custom, il ragazzo stava facendo a spezzoni, diciamo. Era una specie di beta iniziale, addirittura una alfa. Stava facendo un pezzo di mappa alla volta. Quindi aveva rilasciato soltanto la first room e un pezzo del generatore 2. Perché dico un pezzo? Perché la first room circa funzionava. C'era anche la cassa, era carino stareci dentro. Appena aprivate una delle due porte per generatore 2 o 3, tutto il resto non c'era. E quando intendo tutto il resto intendo c'era terreno sospeso, finestre non funzionanti, zombie che spawnavano ma non potevano raggiungere il player, punti in cui potevate cadere sotto mappa e morire. è stata un'esperienza biblica, un'esperienza irripetibile. Per cui spero che non sia quello il livello, nel caso ci faremo delle grasse risate. Però è un periodo in cui tantissime delle custom che ho visto uscire, o comunque escono fuori nel workshop, io ve le sto segnando, che alcune sembrano molto molto belle, altre invece sono prese apposta per essere un meme, per cui andranno a registrare che io sia da solo con qualcuno per farci delle grasse risate. Bella per il Max Ammo, con tempismo perfetto. Dio, ma parlava così tanto Castro, mi sembra appunto giocare letteralmente a Black Ops 3, dove i personaggi parlano molto più spesso. Su Black Ops 1 parlavano abbastanza, c'è da dire. Poi l'avevo detto, il peggio è Black Ops 4, ragazzi. Se giocate Black Ops 4 in co-op, che sia in locale o online, c'è la quantità di battute che dicono i personaggi, specialmente se qualcuno è abituato invece a, non lo so, Cold War e Vanguard, dove ci sono gli operatori, su Black Ops 4 letteralmente non stanno zitti un secondo i personaggi, è assurdo. Che altre giorni che gioco un po' Plutonium, per cui, comunque, E5 mi aspettavo il tuffo, invece c'era scivolata. Questo pezzo di texture mancante? Era fatto così? C'è anche dall'altra parte? Sì. Oddio, chi lo sa. Questo è proprio appescato in qualche modo texture originali, o ha visto quello che c'era, ha cercato di rifarlo in qualche modo. Questi zombie li vedo già un po' commentati. C'è un MPL? Sì, questo sono curioso. C'è un MPL! Uuuuh, allora proprio 5 all over again. Shot in testa con un call post round. La mira un po' andata. C'è l'unica che gioco appunto a Plutonium di Black Ops 2, col controller, per cui, da un pechino che non tocco a mosetta stiera, ma, lo dico sempre che a me piace moltissimo giocare a mosetta stiera, specialmente che, da piccolo ci giocavo, quindi, sono relativamente impraticato. So che se alcune persone hanno sempre giocato controller e oggi provano a impararsi a mosetta stiera da zero, è chiaro che se qualcuno usa un PC di suo per altre cose non è eccessivamente complicato, ma, in generale, il gaming richiede un pochino più di tempi di reazione, o addirittura, so di gente che magari usa bene il PC, però per scrivere ancora guarda la tastiera, che può sembrare strano, ma è abbastanza nella norma. Poi uno che usa il PC 24-7, come anche nel mio caso, non guarda praticamente mai la tastiera, a meno che non scazzi totalmente un tasto, dici, cosa ho premuto? E guarda un attimo in basso, ma altrimenti, mentre si gioca, è follia, per cui bisogna averci mani abbastanza veloci. E poi, appunto, il controller è fatto per essere un pochino più ergonomico e più veloce, cioè, la battuta classica è, magari, su controller per console, c'è un tasto soltanto per sia ricaricare che interazione, ma invece c'è il tasto ricarica, il tasto interazione, il tasto questo e quell'altro, non mi si muove il personaggio per qualche motivo. Pazzo che non ci sono muri invisibili strani che non vedo, perché lì bestemmia. Bestemmia forte. Si spaccano i vetri. No! Che delusione. Sa che... Oh, ma che due palle. Sa che queste texture strane è una combinazione della mia qualità, che è a medio, per massimizzare un po' gli FPS, e la mappa in sé. Non credo che si metta tutto al massimo, magicamente, sia stupendo. Non c'è i dubbi. Però se quello dei punti mi triggera. Guarda che tutte le cast non hanno i punti quando mi sdraio. Insomma, vado a scrivere gli autenti di... Guarda, la mappa è perfetta, in realtà, la texture di questi cazzi, però mettimi i punti sotto i perk. Dai, prendiamo l'ascensore. C'è la musichetta? C'è la musichetta? Sono molto di lusso. Sharp Games, io penso che sia l'autore. Double Tap 2.0. Questa invece è croccante. MP5K? Ma quanto ne godo? Ne godo tantissimo. Allora, adesso giocherò 5 praticamente come la gioco su Black Ops 1. Però sta... Mancherebbero delle macerie, però. Cosa ha fatto una cosa unica, la macerie? No, in realtà. Cioè, ha fatto la porta al posto del macerore, che ci penso. Che la porta è aperta, ma ci sono le macerie davanti. Giustamente. In qualche modo va bloccata. Non male, però, sta War Room. Cioè, è chiaro che non siamo magari a livello di... Di Classified, per precisione altro. Poi... Classified, alla fine... Non è proprio una... Cioè, è un remake. Un remake molto leggero, ma è un remake. Perché un tot di cose sono cambiate. Quello, diciamo, quella via di mezzo, che non è come Shinonuma attuale di Vanguard. Che è quasi una remaster, ha aggiunto due o tre cose. Ma non è neanche un remake pesantissimo, come può essere considerato Blood, Tag o Alpha Omega, specialmente. Tra i remake più pesanti, io dico che Alpha Omega è quello più assurdo. Perché partire da Nuketown Zombie come mappa sopravvivenza e arrivare a Alpha Omega... Me coglioni. Perché Tag è molto bella, però... Sicuramente con mappa finale lascia un po' desiderare. E hanno cambiato un pochettino di cose, ma... Assumila molto a Call of the Dead. Pugnano ovviamente alle proprie opinioni per quanto riguarda Black Ops 4 stesso come gioco e le sue mappe. Io... Cos... Ma... Ma mancherebbe un ascensore qui. Cioè, figo, figo perché queste scale sono fatte un po' vuoto, però... Carino, non me l'aspettavo. Ok. K, bro. Vabbè. Com'è messa sta corrente? La laggata classica di corrente, ma quello... Non ci facciamo domande. Che roba strana. Questo non me l'aspettavo. E non vanno i teleport, mi sa. Questo mi sa che avevo leggermente letto al volo, che... L'utente aveva detto che non era riuscito a far funzionare i teleport. Che mi sembra strano, perché... Chiaro che magari come funzionamento base tantissima gente usa il teleport... Tipo di Kino o di Derryz. Che sembra che in tantissime custom sia facile da poter rimplementare. Probabilmente il codice è semplicissimo a riguardo. Già i teletrasporti alla 5. Poi meglio quelli alla classified, almeno vedo dove sto andando. Perché quello è un grosso problema. Però in compenso... Vabbè, 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 vabbè. Però funzioneranno i DEFCON spero. Neanche i DEFCON? Ma no! Quindi la... Oddio. Cani ha messo al posto lo scienziato, ok. Qua... Come ci dovrei arrivare là? Ci sarà una porta nascosta, poi adesso ci arriviamo. Cerco di capirci qualcosa. Almeno non devo bestemmiare che mi toglie un'arma lo scienziato. Vediamo i lati positivi. I cani sono sempre belli. Ah, sono proprio 15 colpi. Se vuoi avere ancora un caricatore. Ve li faccio bastare se riesco. Se no... Coltello un paio di cani. Non vedo tutti questi problemi. Ok, perfetto. Proprio tondo tondo. Non ho aggiunto magari altri perk, però. Le armi di Black Ops 1, lo stake out, tanta roba. Allora, hai visto che c'è ovviamente il Bowie lì? Non ho visto però la cassa. O sono io cieco? È qua, per caso. Non riesco a vedere, sono cieco? No, non è lì. Eh, allora. Sì, ma sta a non essermela persa totalmente. È qui dentro e non l'ho visto? Anche da altra parte. Tutti questi vetri. Yes, ok. A questo punto mi viene il dubbio che... O le cose non le vedo io. Come sempre lo dico, è probabilissimo. Sono mezzo cieco, però altre cose invece... Non è sempre colpa mia. Non è sempre colpa mia. Colpa anche degli altri ogni tanto. Anzi, non è solo colpa degli altri. Beh, ci ha messo il Mule Kick. Quello, vabbè, era prevedibile. Quindi c'è proprio 5-5. Cioè, me l'aspettavo appunto fosse un Remastered, però... Dato che appunto un paio di cose le ha cambiate anche soltanto per... Immagino, semplificare il poter fare un porting della mappa. Non lo so. Questa cosa dell'ascensore... Dato che in realtà l'ascensore lì sopra c'è... Poteva fare magari l'ascensore sempre più piccolina. Giusto per dire, ci ho messo un ascensore. Però le scale... Strano. Poi l'altra con l'ascensore, cioè non è che serva così tanto per fare su e giù. Le scale funzionalmente parlando sono la stessa cosa. Poi adesso parte il dilemma del... Si usano le scale o si usa l'ascensore? Dipende. Se devi fare 60 piani o prendere l'ascensore. Se devi fare 2 piani, a meno che non ci siano 100.000 gradini tra un piano e l'altro, io dico... Possono fare scale. Proprio gli zombie di Black Ops 3, posso dire, eh. Perché al round 7 è così tanti zombie che... Dino un po' le palle. Posso clicchettare con il mouse? Probabilmente si sta sentendo in questo momento. Oh. Magli estremi, estremi rimedi. Oh, fra un certo punto però... Coltellate, devi andare giù, eh. Ah, bella per il Max Sam e un'altra. Oh. Oh. Con un altro zombie. Ma non posso passare di qua, guarda. Ah, no, aspetta, Link 2? Fa la gata bellica. Allora. Ah, c'è un teleport appunto alla The Ries. Mi immaginavo, perché è la cosa più semplice da poter implementare. Io però voglio il Bowie. Dato che non è una specie di remake... Nica, sto buco così ha fatto molto male. Non è una specie di remake, non posso farmi le mustang con magari un PHD. Prima cassa... Regan? No, 48 dredge. Non so se c'è magari la Wunderbath o simili. Dove andrà connesso stavolta? Poi ci porterà molto probabilmente al Paka Punch. Immagino. Magari qua? Yes. Costerà i miei classici 1500 punti che al momento non ho. Vediamo un attimo. Probabilmente, come un pochino alla fine su Classified. House Teleport. Vediamo. Infatti, immaginavo. E penso sia come Kino, per cui si può stare qua, le finestre probabilmente le ha bloccate, si paga pancia e poi ti butta fuori. Molto probabilmente la vedo così. Sto qua era fatto così su Black Ops 1. Tante cose che mi sembrano strane, perché appunto non so se ha voluto proprio ricopiare le texture o ha, specialmente, guardato la mappa, si è segnato un paio di cose e ha trovato delle texture simili su Black Ops 3 per dire rifaccio la mappa per un porting nuovamente grezzo. Lo scrivo proprio tra parentesi sulla mappa. Questo è un porting grezzo, per cui si fa un attimo quel che si può. Che secondo me va benissimo. Cioè, io lo dico sempre che ammino tutti quanti quelli che si mettono lì a fare qualcosa, perché io non sarei neanche capace di fare una di quelle box map che c'è, una finestra, i perk e la cassa. E il pack a punch, tipo. Io non ne sarei minimamente capace. Lo so già. Perché io ho guardato come si usano i tool, io non so neanche da dove iniziare. Cioè, proprio zero. Io lo guardo e dico, no, 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 no. Io ammiro tantissimi giocatori che si mettono lì, di sana pianta. Anche se fanno una cosa molto basic, appunto una box map, o fanno una mappa gigantesca che in confronto 3 dovrebbe in qualche modo assumerli perché questa gente è brava e da soli fanno una mappa assurda e per quanto ovviamente ci mettono mesi se non anni. Ma resta il fatto che se è un utente da solo e con un sistema del genere fa una mappa complicatissima, ce lo vedo un pochino quasi, per quanto è un attimo sia per la classica discussione del uno che crea una custom, è bravo ovviamente, però stai comunque utilizzando dei mod tools già forniti. Nel senso, il gioco già è creato alla base, il gioco già funziona. Tu stai comunque in qualche modo manipolando quello che il gioco già ha, che si avvia asset di meccaniche simili per creare altri contenuti. Che è relativamente più facile di invece programmare da zero contro magari uno sviluppatore indie che da solo ci mette 5 anni ma fa un gioco da zero, anche se comunque anche lì si usano degli ausili tipo Unity e roba del genere. Però in confronto una custom relativamente, poi con una volta è tutta roba stra complicata che non sapete neanche da dove partire. Però mi ricordo che c'era spesso su Reddit la discussione e certi creatori di custom servono anche più bravi di Treyarch. Sembra, regà, perché se Treyarch fosse concentrato soltanto sul pompare mappe zombie dalla mattina alla sera, sono sicuro che ne pomperebbero non dico una settimana, però un al mese di qualità sublime sarebbero perfettamente in grado. Però non è la priorità principale. Poi mezzo lo dico sempre, anche in mappe recenti c'è da considerare che c'è da fare un easter egg, c'è da mandare avanti la storia, tutte le battute che vanno registrate. Infatti le custom che invece hanno un livello di dettaglio per easter egg, per battute e altro così elevato, sono custom che stanno in lavorazione letteralmente due o tre anni. Ma è ovvio. Se vuoi fare cos'è il doppiaggio è fatto bene. Fare una mappa da zero, implementare chissà quale sistema è anche complicato. Fare un sistema tutto tuo e sei letteralmente in una persona, due o tre stronzi in croce, sicuramente non ti metti a fare le custom in dodici persone. Non credo, non so se c'è gente che l'ha fatto, perché ormai non l'ho fatto niente. vai a fialle.